Cilento, Salerno, Comuni insieme per la valorizzazione dei borghi. Alfano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, si è fatto promotore per la proposta progettuale per la creazione del modello di rete dei comuni BSB Borghi, Salute e Benessere. Cinque comuni del Cilento intendono partecipare all'avviso pubblico, si tratta di Alfano, Albanella, Roscigno, Ceraso, Altavilla Silentina. Il bando pubblico è rivolto ai comuni della regione Campania, ed ha come obiettivo quello di promuovere la costituzione di reti territoriali, comprendenti più comuni con termini, anche non confinanti, per la valorizzazione in forma associata dei borghi locali. Tra gli obiettivi prefissati dalla proposta progettuale promossa dalla rete dei cinque comuni, la ricostruzione del tessuto economico locale, il contrasto allo spopolamento, la promozione di un modello di ospitalità diffusa e di nuova residenzialità, l'incentivo alla condivisione di servizi diversificati per la popolazione.